Il gruppo Prada continua a volare. Il Consiglio di Amministrazione di Prada S.P.A. infatti ha approvato il bilancio consolidato relativo all'anno 2023. I risultati sono più che soddisfacenti. I ricavi netti, infatti il dato principale, hanno raggiunto i 4,7 miliardi di euro con una più 17% rispetto all'anno precedente, sostenuti dalla forte desiderabilità di Prada e Miu Miu. Le vendite al dettaglio sono state pari a 4,2 miliardi di euro con una performance molto positiva nel quarto quadrimestre, pari al più 17%. È stato insomma un altro anno di crescita importante a doppia cifra per Prada, più 12% anno su anno, sopra la media del mercato. Ottima la performance anche per Miu Miu con una crescita al dettaglio pari a più 60% anno su anno. Tra i mercati più importanti, che hanno registrato la performance maggiore, il Giappone, l'Asia, il Pacifico e l'Europa. L'utile netto è arrivato a 671 milioni di euro con una più 44% anno su anno. Mentre la posizione finanziaria netta è stata positiva per 197 milioni di euro. Gli investimenti hanno raggiunto i 750 milioni, incluse acquisizioni strategiche in ambito retail estate. Solidi progressi sono stati registrati anche nell'evoluzione strategica della gruppo, organizzativa e digitale. Siamo molto soddisfatti di ottimi risultati raggiunti lo scorso anno. La gruppo ha conseguito una crescita di alta qualità sia in termini di ricavi e di margini ed ha aumentato gli investimenti per sostenere la crescita dei prossimi anni. Ha detto Patrizio Bertelli, presidente ed amministratore esecutivo della gruppo Prada. Innovazione, dinamismo e flessibilità saranno ancora più cruciali, dice Bertelli, per il nostro successo di quest'anno. E sono fiducioso che la nostra organizzazione saprà far evolvere ulteriormente il gruppo.